Possiamo far durare l'amore per sempre? Certo che possiamo, perché l'amore fa parte del senzatempo, è al di fuori del tempo e al di fuori dello spazio. Diventa mortale quando lo collochiamo in un oggetto di desiderio specifico, diventa mortale quando lo trasformiamo in senso del possesso, quando pensiamo che amare significhi possedere una persona, quando pensiamo che amare significhi che quella persona sia nostra e infatti utilizziamo anche termini di questo genere, mio marito, mia moglie, mio figlio, come se fosse un oggetto, come se fosse la mia auto, la mia casa. L'amore non è un oggetto, non possiamo impossessarcene. L'amore è un'energia, l'amore è una delle energie su cui si basa questo universo, non è l'unica, ma è una delle energie su cui si basa questo universo. È ovvio che se esiste l'amore deve esistere anche il suo inverso, però noi possiamo far durare per sempre l'amore se riusciamo a collocarlo nella sua giusta dimensione atemporale, una dimensione energetica che non è collegata a qualcosa di fisico, di definito. In questo modo l'amore durerà per sempre e potremo proiettarlo su diversi oggetti di desiderio che però non rappresenteranno l'amore, saranno soltanto delle proiezioni, delle istantanee che verranno illuminate dal laser, dall'energia dell'amore. Ecco, l'energia dell'amore può illuminare, può illuminare delle certi di zero, può anche illuminare noi stessi e consentirci di vivere delle esperienze, perché l'amore ci trasforma, ci cambia, ci consente di fare nuove esperienze, ci consente di trasformare la realtà. L'amore direi che è il più grande trasformatore di realtà che esiste, perché muta proprio i paradigmi della realtà stessa e ci consente di entrare in contatto con la nostra anima e con l'anima delle persone, degli esseri che ci circondano, non soltanto persone, degli esseri che ci circondano. Quindi se vogliamo far vivere, far durare per sempre l'amore, dobbiamo dare di modo di esprimere e non chiamare amore ciò che amore non è. Non c'è nulla di male nel senso del possesso, ma non chiamiamo l'amore, perché altrimenti confondiamo le idee a noi stessi e confondiamo le idee agli altri. Io credo che ciò che di più simile possa esserci l'amore è la libertà e ciò che più di lontano ci può essere dall'amore è il possesso, il senso del possesso e la gelosia. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog www.seleccionesev.com. Ciao!